Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa, come tutte le mattine ci ritroviamo insieme per sfogliare i giornali Con il nostro touchscreen, che tra poco ci mostrerà i due quotidiani, Carlino e Corriere Adriatico Le edizioni di Pesero e Urbino Come di consueto però cominciamo subito dal Santo del Giorno, lo andiamo a vedere Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Josue Patriarca Il sole è sorto alle 6.31 e tramonterà questa sera alle 19.45 Il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi è un tempo che è cambiato rispetto a ieri Perché come abbiamo annunciato, oggi è arrivato il cattivo tempo Vedete, è arrivato il cattivo tempo con la pioggia Devo dire che rispetto al solito, quando il cattivo tempo, la pioggia mette il cattivo umore Devo dire che stamattina invece vedere la pioggia a terra e vedere piovere Il cielo nuvoloso ha messo di buon umore, ha fatto il contrario Questo per dire un po' Allora, cosa succederà oggi dal punto di vista meteorologico? Avremo rovescio temporali sparsi, più probabili nelle zone interne Nel settore centro-settentrionale, con fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio A cominciare dal settore nord, dalla provincia di Piesurbino Le temperature sono in diminuzione, in particolare nei valori massimi I venti sono moderati Per domani, 2 di settembre Per domani, 2 di settembre, avremo Che cosa avremo? Vediamo subito Irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni rovescio temporali sparsi Al mattino, nel settore centro-meridionale, questa volta della regione Come a dire, scivolerà giù Vedete, da Ancona fino al San Benedetto del Tronto Temperature in diminuzione I venti sono in diminuzione nel pomeriggio Ma domenica, domenica il tempo peggiora ancora È brutto Con temporali, rovescio temporali sparsi Più insistenti lungo la fascia costiera Con fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio A cominciare da nord Temperature in diminuzione I venti sono nord-occidentali Il mare sarà mosso C'è un miglioramento, una tendenza perlomeno al miglioramento All'inizio della prossima settimana Valentino Rossi fa crack Questo è il titolo sulle principali testate nazionali Perché è una notizia che Valentino Rossi Si è fatto male ieri in montagna Borgo Pace Per lui frattura di tibia e perone Ricoverato all'ospedale di Urbino Sulla pagina principale del Carlino Anche la cronaca con un pesarese recluso in Thailandia Portatemi via da questo inferno La madre si è appellata al ministro della giustizia Orlando È stato condannato a 25 anni Ha rischiato addirittura l'ergastolo per droga Giordano vorrebbe scontare la pena in Italia È in una cella con 100 carcerati E poi la festa del PD al femminile Con Maria Elena Boschi a Pesero Che belli mondiali Mondiali di ginnastica ritmica E poi apprezza la Rossini Ovvero la pizza Quella con l'uovo sodo e la maionese Presa coppia di borseggiatori bulgari Con l'auto piena d'oro Recuperati dai carabinieri Preziosi e denaro Allora andiamo a vedere adesso invece La prima pagina del Corriere Adriatico Anche qui la prima pagina del Corriere Questa mattina è per Valentino Rossi Che si è rotto Questo è il titolo Incidente a Borgo Pace Rossi ricoverato ad Ancona Scelto di essere operato da Pascarella Per lui frattura alla gamba destra E poi i mondiali Per la ginnastica e festa grande All'Adriatico Arena di Pesero La coppia dei borseggi invece Possedeva un tesoretto La pagina di Fano del resto del Carlino Sia quella del Carlino che del Corriere Sono tutte per il Brodetto Il festival internazionale del Brodetto E delle zuppe di pesce Zuppa in orbita al sapore d'Europa Il festival si arricchisce di gemellaggi italiani Caciucco e non Con Spagna e Serbia Giovedì 7 presente Giorgione Poi la gara tra cuochi Quattro fanesi che cucineranno in diretta E parla Drudi Presidente della Camera di Commercio Dice ci abbiamo creduto E ne valeva la pena Brodetto senza confini Invece il titolo sul Corriere Adriatico Presentata l'edizione numero 15 Del festival che si svolgerà a Lido Dal 7 al 10 di settembre Programma sempre più internazionale Con sfida alla zuppa serba E a quella spagnola Massimo Seri Sindaco di Fano Contro le Cassandre Con noi in tre anni Solo grandi eventi a Fano Operazione Verità del Sindaco Ed elogio All'associazionismo Diciamo Richiamo in apertura Della coppia terribile Quella con l'auto imbottita Di refurtiva preziosa Che è stata arrestata Dai carabinieri di Pesaro Trovati con 6.000 euro Spunta anche Una mappa Dei mercati di mezza Italia L'uomo di 37 anni Faceva da palo La donna di 33 Già arrestato in passato Sono stati presi All'Iper di Pesaro Guardate queste sono le fotografie Alcuni fermo immagine Della donna Che si Praticamente imbottiva Di roba Era ormai tutto collaudato E sotto Invece Alcuni Alcuni Monile Alcune cose Che sono stati oggetti Preziosi Che sono stati recuperati Dai carabinieri L'inventario dei borseggi Questo è il titolo Sul Corriere Adriatico Con la mappa dei mercati Coppia arrestata dai carabinieri Agiva in modo sistematico Segnando furti Bottino E zone dove colpire San Bartolo Festeggia Dopo l'incendio Grazie a coloro Che ci hanno protetto Poi Riunione Tecnica Per la messa in sicurezza Dei due borghi Vigile volontari A cena La regione stanzia 400 mila euro Per la falese di Focara Con reti e verifiche Geologiche Queste sono le fotografie Davvero eroi È il caso di dirlo Perché affrontare Un evento del genere Un rogo Di quella portata È stato davvero Un gesto Per loro Ordinario Probabilmente Ma eroico Per tutti gli altri La siccità Non ferma la caccia Da domani Si inizia a sparare Gli ambientalisti Come sempre Sul piede di guerra Volevano tregua Per gli animali Considerando anche La eccezionale Ondata di caldo E di siccità Concessa solo Una pausa Durante la giornata Per il prossimo anno Aumenterà Il numero Dei capi abbattuti Stiamo parlando Dei cinghiali Che sono finiti Nel mirino A Cagli invece Gli studi Sul pozzo del Burano Interrogazione 5 Stelle La regione fa acqua Da tutte le parti In mei dell'Udc Dice qualcuno ci dica Perché I dati esistenti Da vent'anni Non ci vengono Più forniti Urbino invece Si occupa Della visita Del ministro Qui cade L'intonaco Il presidente Di patria Del tribunale Ha incontrato Orlando A Pesaro Questione di sicurezza Decoro I 55 mila euro Stanziati Ma servono solo Per dare il via Ai lavori E sempre In tribunale Di patria Lamenta Manca il personale Meno 33% Andiamo Sull'altra pagina Invece Del resto Del carlino Da terre roveresche Scuola Parliamo di scuola L'anno Inizia In trasferta Spostati A causa dei lavori 170 alunni Adeguamento antisismico Sorteggio Per le destinazioni Coinvolto L'istituto Gio Pomodoro L'assessore Dice un sorteggio Per decidere La sezione Da mettere sotto La chiesa E il parroco Don Mirco Ha già effettuato I lavori Necessari Mondolfo Cacciata Tutto pronto Un tuffo nella storia Con oltre 200 Figuranti A San Lazzaro Di Fano Siamo sul corriere Adriatico Nuovo Acquedotto Aset Lavora per una rete Sicura L'emergenza idrica Si combatte Anche così Via i tubi vecchi I tubi obsoleti Dentro invece Moderne condotte In Giza Questo è il cantiere Nella fotografia Di San Lazzaro Vicino alla caserma Dei Carabinieri Siete imprenditori Della paura Solo per un fatturato Elettorale Immigrazione E criminalità Sinistra unita Replica così Alle accuse Del centrodestra E poi Ciclabile Sulla Fano Urbino Sempre dal corriere La sinistra Parla di spreco Ma la legge Approvata Piace Ora si liberino I tratti Occupati Il PD Siamo a Fossombrone Bonci Il sindaco Troppo giovane Per aver votato Berlinguer Ironia Sul caso Della mostra Per la liberazione Dopo il cambio Del titolo Per Carpegna E Montecopiolo Un viaggio A Mont-Saint-Martin Sulle ali Dell'amicizia E poi ancora Dalla Valle del Cesano Municipale Disarmata Serve un piano Di sicurezza Rissa la stazione I 5 stelle Dettano la linea Sprai E sfollagente Approvati Ma dove sono? Chiesto anche un patto Con detrazioni Imu E Tasi A chi investirà Sui sistemi Di video Sorveglianza Senigallia invece Dal Corriere Sfila il portafoglio Da una borsa La ragazza Inseguita Dai passanti Grida e rabbia Sotto i portici Non la passerai liscia Le gridano Ma lei riesce A fuggire Insieme al cane Ha rischiato Il linciaggio La donna Che ieri mattina Ha derubato Un'anziana La vittima Camminava sotto L'ultimo porticato Di Palazzo Gerardi Sostenuta Dalla badante La malintenzionata Invece Che indossava Una maglia rossa E passeggiava Con un cane bianco Ha atteso Che l'anziana Arrivasse Quasi in prossimità Dell'uscita Del portico Forse Per garantirsi Poi anche Una viduscita E poi ha infilato La mano Nella sua borsa Ed è riuscita A prendere Il portafogli Sequestrata Una bancarella Abusiva Dalla Polizia Municipale Alla fiera Di Sant'Agostino Appunto A Senigaglia E sotto Invece Mazzoni Ai domiciliari Ma può andare al lavoro E accusato di stalking Da una studentessa Il GIP Attenua La misura Cautelare Siamo quasi In chiusura Stop al servizio Di ambulanze Per idealizzati Da Pesaro Tagli E rabbia L'area vasta 1 Lo sospende A partire da oggi Basta risparmiare Però Sulla pelle Dei malati In coda Tra comune E distretti Nidi E autocertificazioni Al 40% Stiamo parlando Dei vaccini Obbligo vaccinale L'amministrazione Si ammorbidisce E trova l'accordo Con i genitori Free Vax Cioè con i genitori Che vorrebbero decidere Sulla pelle Dei propri figli I vaccini Sia o no Se ne parla Comunque Domenica La 17 Alla cooperativa Agricola Biologica La terra E il cielo Di Piticchio Di Arcevia Ok andiamo adesso Sulle ultime due pagine Corriere Adriatico Addio a Pescara del Tronto Non può rinascere Dovera Terremoto Parliamo di terremoto Il verdetto Di CNR E Ispra Il costone Sta franando Troppo pericoloso Ricostruire Il borgo Lì dove era Due possibili soluzioni Individuate Per delocalizzare Il sidaco Petrucci Dice Non saranno Comunque distanti L'ultima pagina Invece È del Carlino Con i mondiali Di ritmica Questa è la seconda giornata Il titolo A Giorgiuculese Ai piedi del podio Sfiorata una storica medaglia Mentre promossa Alexandra Quasi perfetta al nastro In finale Anche Baldassare Molto brava anche La quindicene fabrianese Che chiude Al sesto posto Non c'erano italiane In finale Dal 2003 Con la fanese Laura Zacchilli Io invece E qui c'è l'intervista A Martina Centofanti Sbocciata a Fabriano Che fa ancora parte Di una squadra Tutta rinnovata Io la veterana Delle farfalle Azzurre La rassegna stampa Finisce qui Occhio ai giornali Torna domani mattina Alle 7.30 Noi invece Questa sera Ci rivedremo Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia A voi tutti L'augurio di una buona giornata Arrivederci Sbocciata a Fabriano